come l'abbiamo postata sono usciti tutti ci hanno accusato che dobbiamo venutare l'italiano noi abbiamo detto 99 su 100 neanche l'1 e 5 il furgone è praticamente pieno grazie continua ad arrivare gente a scaricare roba di ogni tipo su bambini proprio per bambini acqua, pasta reinetti c'è un po' di tutto